L'antitrust ha erogato una sanzione di oltre 3 milioni e 700 mila euro di euro alla società Caronte e Turist. L'autorità ha accertato che la Caronte, in posizione di assoluta dominanza nel traghettamento passeggeri con auto al seguito sullo stretto di Messina, ha sfruttato il suo potere di mercato per applicare prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori. L'analisi di eccessiva onerosità è stata effettuata applicando un test in due fasi. Le tariffe applicate ai passeggeri con autoveicolo risultano sproporzionate rispetto ai costi sostenuti e tale sproposizione è irragionevole rispetto al valore del servizio reso, dice l'antitrust. Per la valutazione di eccessività, spiega l'antitrust, sono stati utilizzati vari test e tutti hanno fornito risultati univoci. Esiste una significativa sproporzione tra i ricavi e i costi nell'offerta di servizio di traghettamento di passeggeri con auto al seguito. I prezzi sono risultati anche iniqui, ossia irragionevolmente sproporzionati rispetto al confronto con le compagnie internazionali. Infatti la Caronte applica tariffe molto più elevate rispetto agli operatori attivi su rotte comparabili che peraltro offrono servizi decisamente più evoluti, dice sempre l'antitrust. Il particolare differenziale di prezzo rispetto al benchmark non è dunque giustificato dal livello qualitativo del servizio offerto. La flotta di Caronte è caratterizzata da un'età media molto elevata, 27 anni, e il servizio di traghettamento viene giudicato, secondo l'antitrust, scarso dalla maggioranza degli utenti.